Dunque, prima di entrare in merito al decreto legge su cui il Senato è chiamato a votare, vorrei ricordare ai parlamentari una dichiarazione di principi che è nota come il Codice di Norimberga. Siamo nel 1947, al momento in cui si stanno celebrando a Norimberga i processi ai medici che durante il nazismo siano resi colpevoli di gravi crimini compiendo esperimenti a volte letali sui detenuti nei lager e eseguendo fino alle estreme conseguenze la politica eugenetica del regime. È in questa occasione che la Corte, di fronte agli evidenti eccessi del potere medico, ritenne necessario formulare una dichiarazione sui principi etici e giuridici che avrebbero dovuto regolare il rapporto fra i medici e i soggetti umani. E questo è appunto quello che chiamiamo oggi il Codice di Norimberga. La dichiarazione esordisce affermando che in questo rapporto il consenso volontario del soggetto umano è assolutamente essenziale e che questo consenso deve essere esercitato liberamente, cioè cito le parole del Codice, senza l'intervento di qualsiasi elemento di forzatura, inganno, costrizione, esagerazione o altra ulteriore forma di obbligo e coercizione. Ecco, mi domando se noi siamo in presenza oggi di un simile consenso volontario. Perché ho evocato questa dichiarazione? Perché credo che oggi sia più che mai necessario comprendere che medicina e politica devono essere chiaramente distinte e che ragioni scientifiche non possono essere evocate per giustificare provvedimenti che sono per loro natura necessariamente politici. Penso, rigolgo poi ai senatori, però penso che dovrebbe farvi riflettere il fatto che il primo esempio di una legislazione in cui uno Stato interviene in modo obbligatorio sulla salute dei cittadini, ebbene questo esempio è la legge sulla protezione del popolo tedesco dalle malettie ereditarie che Hitler fece approvare nel 1933 appena salito a governo. Questa legge portò alla formazione di speciali commissioni mediche che decisero la sterilizzazione forzata di 400.000 persone. La medicina ha il compito di curare le malattie secondo i principi che il giuramento di Ippocrate sancisce irrevocabilmente e che vengono oggi invece trasgrediti in punti essenziali con l'autorizzazione dell'ordine di medicina. Pensate, se stringendo un patto che necessariamente è ambiguo e indeterminato con i governi, la medicina si pone surrettiziamente in posizione di legislatore, non soltanto questo non giova alla salute degli individui, ma può condurre e di fatto sta conducendo a limitazioni inaccettabili delle loro libertà, rispetto alle quali le ragioni mediche offrono il pretesto ideale per un controllo senza precedenti della vita. Mi domando, è accettabile che per una malattia di cui secondo le parole appena pronunciate dal professor Palù la letalità è dello 0,2%, è accettabile per una malattia con questa letalità dello 0,2% che tutto un paese sia sconvolto e terrorizzato e limitato nelle sue libertà di movimento, di lavoro, eccetera. Vengo ora al decreto su cui siete chiamati a votare. Penso che dovreste sapere, come ormai accettato da fonti autorevoli internazionali, scientifiche internazionali, che il vaccino, è stato detto anche qui, non protegge dal contagio e che dopo un paio di mesi il vaccinaso si trova rispetto alla malattia nella stessa situazione del non vaccinato. Di qui la necessità che dovrebbe far riflettere chiunque a buon senso di una terza dose e domani perché no di una quarta all'infinito. Se il vaccino è efficace, perché c'è bisogno di una terza dose e eventualmente anche di ulteriori. Di fronte a questa evidenza, invece di mettere in questione l'utilità della politica fin qui seguita sul problema dei vaccini, il governo, coadjuvato in questo da media sempre più irresponsabili, ha preferito fare la cosa peggiore che si può fare in una società e cioè dividere i cittadini in due classi nemiche. I vaccinati, portatore di un green pass, anche questo in continua mutazione, adesso è super green pass, domani sarà super super green pass, vaccinati da una parte e gli altri definiti con un termine negativo che ricorda i non ariani della legislazione fascista del 38 definiti Novax, sbrigativamente Novax. Dopo aver seminato per quasi due anni il terrore e la paura, si seminano così ora l'odio e la discriminazione, accusando senza alcun fondamento chi ha scelto di non vaccinarsi, di danneggiare coloro che come vaccinati dovrebbero essere sentirsi protetti e che evidentemente non si sentono tali. Una società così divisa e fondata sull'odio e sull'insicurezza non è una società libera e vivibile. Io credo che il nostro paese stia scivolando in una barbarie che non ha precedenti nella sua storia, una barbarie in cui a me pare di provare ogni giorno, ogni giorno di più, quella che Primo Levi ha definito la vergogna di essere di nuovo. La vergogna cioè, per usare le sue parole, che qualcosa di ingiusto ed inumano sia stato irrevocabilmente introdotto nel mondo delle cose che esistono. È in nome di questa vergogna che chiedo ai senatori di interrogarsi e di riflettere a lungo prima di votare il loro consenso a un decreto legge ingiusto e inumano.